Sono però molto fiduciosa perché qua davanti a me c'è un signore che ha un bel po' di tempo che non frequenta i palazzi romani, li guarda da lontano però ha mantenuto una sua caratteristica, dice sempre quello che pensa, non parla mai per giri di parole, ipocrisia quindi è venuto qui da ieri, sta facendo il nostro inviato speciale praticamente, così mi spiega che succede nel centro sinistro ha capito che sta capitando? Perché io sono un po' confusa Emiliano Beh innanzitutto è chiaro che essendo obbligatorio votare in presenza siamo qui altrimenti tutti i presidenti di regione sarebbero rimasti in sede perché abbiamo parecchio da fare ovviamente voglio salutare in modo particolare il professor Cassese che è uno dei miti della mia vita Bel nome per il Quirinale Devo ovviamente evitare di farmi rimproverare all'ultimo secondo, sono riuscito a evitare rimproveri dal professore fino ad oggi vorrei evitare di essere rimproverato oggi quindi voglio dirgli che le ho voluto bene attraverso la sua opera e anche attraverso la sua riservatezza e il suo stile istituzionale Amare in questo modo per uno giovane studente qual'ero di giurisprudenza secondo me vale una vita e quindi volevo dirle grazie a nome di tutti gli studenti che lei ha tirato su anche a distanza Allora questa è la prima cosa e quindi è chiaro che il presidente della Repubblica è una figura di riferimento perché noi cerchiamo sempre una figura di riferimento Io per esempio nella mia esperienza politica perché prima che è cominciata quando avevo già 47 anni ho avuto difficoltà a trovare una figura di riferimento in Puglia e devo dire che questa difficoltà non si è mai sostanzialmente risolta ed è il motivo forse anche di qualche sciocchezza che avrò fatto perché mi mancava quella persona che al momento fortuno mi dava dei consigli per evitare gli errori Il presidente è questo che però non si sostituisce alla politica e questo il professor Cassese lo ha spiegato molto bene e quindi quando si individua una figura come questa si deve rappresentare una idea di paese un'idea anche tra una personalità e quello che il paese vuole essere Che cosa posso dire? Che hanno perso molto tempo nel fare il lavoro che avrebbero dovuto fare Questo è sicuro Abbiamo delle scuse Quindi a urne aperte ci sarà un lavorio molto complicato Adesso fare tutto questo con le urne aperte e con il paese che ha bisogno di rapidità e le schede bianche sarà una bella botta per tutto il sistema politico E però non credo che ci siano molte alternative In definitiva che cosa mi piacerebbe che ci fosse A proposito della sua vita precedente Dato che stamattina la Meloni ha candidato Nordio Volevo sapere Lei ha detto che c'è un altro nome che può arricchire la rosa di centro-destra Che è Carlo Nordio Ah vedi la rosa dice proprio questo La sinistra boccia nomi di destra E sul Nordio perché non parla? Sta parlando Emiliano la rosa Voglio dire una cosa Io ovviamente non ho parlato con Letta, Enrico E non sono autorizzato a parlare a suo nome Ma non credo che abbia mai detto che non è possibile La nomina di una persona che come area di riferimento non sia legato al centro-sinistra Non ha detto così Ha semplicemente detto che il centro-destra Non avendo i numeri per eleggerlo Non ha il boccino in mano Come non ce l'abbiamo noi Quindi bisogna trovare un compromesso intelligente che aiuti il paese Ed è una cosa ben diversa dall'offendere i candidati del centro-destra Non credo che Letta abbia mai detto una cosa del genere E non ha minimamente, anzi è consapevole di dover eleggere il Presidente della Repubblica Con tutti i deputati di centro-destra Quindi deve essere ed è particolarmente rispettoso del centro-destra Allora professore, arrivo da lei